Cari amici, cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Oggi è il 2 maggio 2012 e sono ora le 9.00-10 del mattino. Vedete la trasmissione odierna? La Francia è noi. Perché politici ed economisti, quelli che ti fanno della meta politica, della metastoria, della meta economia e via di seguito, non fanno altro che parlare delle votazioni in Francia, in terra di Francia, dove l'Eliseo se lo contendono, Sarcosi e lo sfidante Hollande e giù tutti a dire questi meta economisti, metastorici e tutti a dire che se vince un Hollande, che è un socialista? Ah, prima che mi dimentichi, guardate però che il socialista Hollande è uno stretto collega di quel potente signore, pure lui socialista, non ricordo il nome, che fece una certa operazione con una cameriera nelle lontane Americhe, che era il presidente del Fondo Monetario Internazionale, e adesso al suo posto c'è la simpatica Christine Lagarde. Cioè, se non succedeva quell'incidente là in un alberghetto con una domestica, quel signore d'Alditali che era il presidente del Fondo Monetario Internazionale, e voi avete già capito che non ricordo il suo nome e i cari amici, e adesso c'era lui a gestire la campagna presidenziale contro Sarkozy, e poi, capito, i socialisti avrebbero avuto come loro rappresentanti quel signore là d'Alditali, va bene? Quello che con la cameriera e via di seguito, e che dopo diede le dimissioni, e capito chi sono i socialisti, hanno tutti paura ai nostri meta economisti, meta storici, meta qua e meta là, e allora, tutti qua, tutti qua trepidanti a dire, ah, se vince un round, che è un socialista, le borse si vendicano contro la Francia, si vendicano, e aumenta lo spread fra i titoli francesi e i titoli tedeschi, il famoso spread, la divaricazione, viceversa, altri dicono no, è meglio che vinca Sarkozy, così le borse restano fermi, però, diciamo così che, il cosiddetto popolino, preferisce che vinca Ollanda, che vinca Ollanda, perché se viene Ollanda, egli farà una politica più popolare, però, i meta politici, i meta storici, ah, se arriva Ollanda, però le borse si vendicano, contro il socialismo francese, che il socialismo francese, guidato da Ollanda, poteva essere guidato pure da quel signore Latta al di Dali, che è il presidente, mi pare, del Fondo Monetario Internazionale, bene, ok, Gaiamisi, beh, che ti fa con ieri alla sera, che ti fa? Dice, beh, vediamo che ripercussioni avranno, sull'Italia, le elezioni presidenziali in Franza, vediamo un po', vediamo un po', perché si deve riempire, il contenitore, questo è il Corriere della Sera di ieri, primo maggio, per cui ai lettori hanno dato tanto da leggere, allora, è di ieri, Corriere della Sera del primo maggio 2012, 2012, allora, eccolo qua, perché il voto conta anche per noi, il voto conta anche per noi, e c'è l'onnipresente, vedete questo signore, è un, Sergio Romano, un simpaticissimo, metadiplomatico, metastorico, metagiornalista, perché il voto, cioè il voto in Franza, anche per noi, anche per noi, conta il voto, capito? Perché cambiano gli equilibri in borsa, capito? A seconda di, che ci sia Sarkozy, o che ci sia Oland, cambiano gli equilibri in borsa, ma alle borse europee, non gliene frega un tubo, alle borse europee, alle borse mondiali, non gliene frega niente, che all'Eliseo ci sia uno di centrodestra, come Sarkozy, o uno di centrosinistra, come Olanda, ma scusatemi, ma scusatemi, meta-economisti, meta-analisti, meta-storici, ma scusate, non abbiamo forse l'esempio della Spagna, che adesso è andata a mano del governo di centrodestra, di un certo roio, e la Spagna col governo di centrodestra, e che forse ha migliorato la propria posizione economica, ma alle borse non gliene frega un tubo, che ci sia un governo di centrosinistra, o un governo di centrodestra, alle borse non gliene frega un figo secco, le borse non guardano chi sta al vertice, perché oggi quelli che stanno al vertice, oggi, diciamo che è sempre stato così, e quelli che stanno al vertice sono tutti uguali, capito? sono tutti uguali, perché se fosse vero, quello che dicono questi meta-analisti, meta-economisti, meta-storici, e cioè che l'andamento delle borse dipende da chi sta al governo, le borse europee e mondiali, allora dovremmo chiederci come mai il governo di centrodestra spagnolo, che dovrebbe essere tanto amato dalle borse europee e mondiali, invece vediamo che sta peggio di prima, la Spagna adesso sta peggio di prima, e con l'asso spagnolo è iniziato col grande Zapatero, con il grande Luis Zapatero, poi Luis Zapatero, nonostante la sua grandezza, ha dovuto cedere le armi, e un governo di centro-sinistra, quello di Zapatero, e in Spagna hanno voluto cambiare cavallo, ha detto, ma ci mettiamo un altro cavallo, un cavallo di destra, e la situazione è peggiorata, alle borse europee e mondiali, non gliene frega un figo secco, che in Spagna ci sia un governo di centro-sinistra, come quello del Zapatero, o un governo di centro-destra, come quello attuale, di Roio, Roio, non gliene frega niente le borse, per le borse, che l'euro sia di sinistra, o che l'euro sia di destra, insomma che il denaro sia di sinistra o di destra, non cambia niente, e il denaro è il denaro, la politica non c'entra niente, e così, e chiunque vinca in Franza, in terra di Franza, chiunque vinca, non ci sarà nessun cambiamento sostanziale, tutti li ha tremare, tutti ha tremare, anche se va su a Orlando, Orlando che è un socialista, che è un socialista, se va su a Orlando, le borse si vendicano, se vendicano le borse, e gliela fanno pagare, ai francesi, che hanno preferito, uno di centro-sinistra, a Orlando, anziché mantenersi, uno di centro-destra, sa così, ma cosa volete, che gliene freghi, alle borse, di questi, impercettibili cambiamenti, ma non gliene frega niente, le borse guardano soltanto il denaro, guardano la produttività, e via di seguito, sono come quelli, i nostri politici poverini, poverini, quante menzogne che vendono i nostri politici, i nostri politici continuano, guardate che io, cari amici, lo devo ripetere, io sono, sono nato radicale, alla Marco Pannella, resto radicale, alla Marco Pannella, adesso ho un po' di simpatia per Beppe Grillo, eh, simpatia per Beppe Grillo, perché, perché, sta svergognando, la classe politica sta svergognandola, ok? E in fin di conti, la rivoluzione di Beppe Grillo, come l'ho già detto tante volte, è una rivoluzione, non è la maniera delle brigate rosse, o le brigate nire, non è una rivoluzione con i proiettili, è una parola, è una rivoluzione con le inventive, con le parole, è una rivoluzione dolce, e allora, io non c'è niente che spartire con il signor Berlusconi, ma ditemi voi, ma che, in Grecia, la Grecia che è collassata giù nel mare Egeo, c'era forse il signor Berlusconi? Nella Spagna, che è collassata pure lei nel mare Tirreno, lì, c'era forse il signor Berlusconi? Ma in Portogallo, che è pure lui collassato giù, che c'era il signor Berlusconi? E in Irlanda, Irlanda, che pure lei fa parte dei paesi PIX, che c'era Silvio Berlusconi in Irlanda? E negli Stati Uniti, che sono in mano ai fondi sovrani cinesi, ma che c'era Silvio Berlusconi? Tutti adossi la politica, si chiama politica provinciale, non ti fanno vedere i nostri politici una politica di ampio respiro? Ma che è tutta colpa del signor Berlusconi? Ma l'unica cosa che si può rimproverare a Silvio Berlusconi è eventualmente i suoi comportamenti con le donnine, eventualmente, che era anche questione morale, ma sul piano economico, magari dipendesse dai capi di governo l'andamento dell'economia, magari! Anche se non c'era Silvio Berlusconi, l'Italia andava giù lo stesso! Vito, diciamole queste cose, questo non vuol mica dire essere filo berlusconiani! Luiz Zapatero era un governante meraviglioso in Spagna, la Spagna è andata giù proprio durante il governo del meraviglioso Luiz Zapatero! E' in Grecia che c'era Silvio Berlusconi! Ma no! Ma no! Ormai, ormai l'Occidente, ve l'ho già detto, cari ragazzi che mi seguite, ve l'ho già detto due anni fa nel video intitolato Occidente Default, Occidente Defu, e ve l'ho già detto due anni fa, Occidente Defu, ormai l'Occidente si trova in una situazione di Defu, non transitorio, non congiunturale, ma strutturale! E' strutturale, ve l'ho già detto come stanno le cose, non posso ripeterle qua, perché c'è già il mio video intitolato Occidente Defu, va bene, che è un video base a livello economico, e allora questi qua, nel Corriere della Sera, gli hanno fatto un intero inserto, un intero inserto, 10-15 pagine, belle, eh? Sul piano formale, ma sul piano sostanziale non c'è niente, hanno preso il pretesto delle elezioni di Parigi, per l'Eliseo, lo scontro Sarkozy, Hollande, non per fare della vera economia, della vera analisi economica, no, hanno fatto una decina, una quindicina di paginate, con delle belle foto, risalendo, tracciando i rapporti tra Italia e Francia, a partire dalla rivoluzione francese, da Napoleone, fino ad oggi, hanno fatto un inserto, che apparentemente, apparentemente, ti dice, perché il voto conta anche per noi, non conta niente il voto franzese, non conta niente il voto franzese per noi, come non conta niente per i francesi o per gli spagnoli, come fanno le cose da noi, e si tratta di defaut, si tratta di debiti, siamo in Europa, in Occidente, ve l'ho spiegato, ripeto nel video, siamo tutti pieni dei debiti, cari amici, ecco la scusa del voto franzese, hanno fatto 15 pagine, tutte belle, istruttive, a tutto storico, ma non sono coerenti con il titolo, perché il voto conta anche per noi, hanno fatto della meta politica, della meta storica, hanno fatto degli articoli che non toccano, non toccano la realtà del problema, non la toccano, questo video, questo video di Serafino Massoni tocca la realtà del problema, e voi capirete perché questo video di Serafino Massoni tocca la realtà del problema, andando a vederlo, a rivedere il mio lontano video di due anni fa, Occidente Defoe, va bene cari amici, grazie, se avete avuto la pazienza di ascoltarmi, e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.